Ragazzi oggi altro video su Pokémon GO e oggi andiamo a vedere un account davvero particolare, un ragazzo a livello 1 che sfruttando, ok sia un hack, ma magari anche un bug scoperto da lui, un modo per eludere la sorveglianza quando fai il teletrasporto su Pokémon GO, si va a catturare tutti i Pokémon migliori, Snorlax, i 3 starter a livello finale, quindi Venosauro, Blastoise, Charizard, Raichu, Lapras e se le butta giù tutti, davvero è qualcosa di clamoroso. All'interno del video ho scoperto un po' come possa funzionare questa sottospecie di trucco, vi invito magari a non utilizzare hack in maniera, cioè proprio sul vostro account principale, però per fare ricerca sarebbe interessante provare a riemulare questo sistema e magari vedere se davvero funziona, ma soltanto a scopo così di segnalazione poi all'anianti, per tentare di creare un'applicazione che sia difficile da eludere con magari controlli un po' più sofisticati. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questo nuovo video oggi, siamo di nuovo su Pokémon GO, pronti per un altro episodio di quelli particolari, ha trovato un altro video in rete e siamo qua di nuovo a discuterne, questo ha catturato Blastoise, ma la cosa interessante è questa, vediamo un po', schermata iniziale, ci siamo, tranquillamente lui inizia a raccontare dei suoi bellissimi, cioè la parte iniziale questa del video, inizi proprio quando inizi Pokémon GO, la cosa interessante è che c'è un sistema per trovare, c'è tipo un sito si chiama PokéSniper, una roba del genere, vabbè fotte sega, ok partiamo, PokéSniper e lui riesce a trovare un sacco di Pokémon, guardate Squirtle, Charmander e Bulbasaur, ok, niente, non ci interessa, iniziamo a camminare, ecco anche Pikachu che appare, il quarto starter, se sapete bene si può ottenere anche Pikachu come starter, ma niente, attualmente siamo così fermi senza prendere nessun tipo di starter, decide di trovare Pikachu e va bene, se lo cattura perché tipo è costretto a fare una roba del genere, da quanto ho capito, e poi si teletrasporta, però lo fa all'interno del coso per catturare i Pokémon, cioè tu entri nel coso, entri, lanci la Poké Ball e poi ti trasferisci, vediamo se effettivamente funziona questo metodo, e non vieni bannato, boh non lo so, a me suona tanto tanto strano, eccolo qua, Pikachu, bim, lui si è trasportato cazzo, lui si è teletrasportato, e figo, non vieni bannato, cioè sei sicuro di non essere, il che è abbastanza improbabile secondo me, appena riesce a trovare un cazzo di nome che sia probabile, mette ok 4Y, penso, ok va bene, e se non vieni bannato così dovrebbe essere qualcosa di clamoroso, vedete le coordinate 37-122, adesso gli va tutta la spiegazione del Pokédex, si scusate del Pokéstop, entra delle coordinate e trova Raichu adesso, questo ragazzo riesce a catturare una quantità di Pokémon pressoché infinita, cioè si cattura tutti i Pokémon meglio, Blastoise, Charizard, Venusaur, Lapras, Snorlax, assoluto, incredibile, assoluto, a livello 1, e è tutto documentato qua, lui non fa vedere benissimo la tecnica che utilizza, e quello che vi posso dire io è che lui inserisce delle coordinate, cioè questo sito PokéSniper penso sia, in cui lui va ad inserire delle coordinate, e cioè vai a vedere appunto dove stanno tutti i Pokémon migliori secondo delle coordinate, e ok sta sempre qua, adesso dovrà andare ad inserire altre, eccolo qua, perfetto, vedete? Ecco questo qua, il sito, PokéSniper.com, ecco Venusaur, porca troia, porca troia, che figata, ma io, no Dio, è assoluto, è infinito, guardate di quanto si è spostato, X45Y2, il fatto è, come riesci a non farti bannare? E' impossibile signori, ok, scappato Venusaur, ovviamente dopo, cioè dopo pochissimo scappano, e Blastoise, eccolo qua, teleportato da Blastoise, appare Blastoise come al solito, e lui rimette delle coordinate, sempre quelle sono, adesso devo capire bene come funziona, perché tipo lui mette sempre le stesse coordinate, adesso ho tagliato un pezzo di video in cui tenta di catturarlo, lui mette sempre le stesse coordinate, sono quelle di San Francisco da quella zona, e poi da lì se ne va, ma il softban te lo prendi per forza, non puoi assolutamente non prenderti il softban, è impossibile, però ecco qua Blastoise, impossibile, ecco di nuovo Venusaur, che può essere figo vederli apparire, cioè qualcosa di clamoroso, lui inserisce le coordinate, e vabbè, cioè lui va sempre nella stessa zona, quando entra dentro, cioè entri dentro, metti le coordinate e te ne vai da un'altra parte, ma se io faccio così, secondo me mi bannano, però ci voglio provare, perché potrebbe essere davvero la strada, cioè sai che figata? Adesso attualmente ho il mio account e basta di Pokémon GO, gli altri ho ottenuto un ban permanente, perché ovviamente utilizzavo bot e roba varia, ma soltanto per dimostrazione su YouTube, quello, il mio account personale, non ha attualmente usufruito di trucchi e roba varia, questi sono tutti i video che non sono miei, trovo in rete sti video di YouTuber che, cioè trovo in video che altro strani, cioè li cerco ovviamente, sembrano surreali, allora decido di fare sti video qua, perché in effetti è particolare, Too Fast, lui è a livello 2, ha catturato soltanto 4 Pokémon, ecco Snorlax, bam, vedete? È clamoroso, cioè è veramente clamoroso, incredibile. Io non so, e vedi, lui ha cambiato coordinate, 41-87, allora l'idea che mi son fatto io è che tu torni sempre a San Francisco e poi da San Francisco sempre dentro la schermata di cattura Pokémon, te ne vai via, e te ne vai dove cazzo ti pare dove stanno sti Pokémon, provi un sacco di volte a catturarli, è infatti 37-122, sempre lì, vediamo adesso che cosa fa, Ah, ma certo, allora, stai fermo ad un Pokéstop, ok, aspetti, entri, ti prendi una cazzo di coordinata che ti pare, Dragonair, sì, bene, tipo adesso aspettiamo che lui scelga la prossima, Snorlax, decide di copiare Snorlax, se ne va di nuovo su Pokémon adesso, vediamo, ah ok, Vaporeon, Vaporeon, quindi, eh, non me lo fa vedere, però sicuramente lui tipo è, aham, allora sì, va bene, ho capito, quando lo devi fare è all'interno dei Pokéstop, sì, ci devo provare, eh, ci devo provare anch'io, e se funziona è davvero tantissima roba, questo comporrerà purtroppo, ah, devo riscaricare il hack, non so attualmente se sia fattibile, però vi rendete conto che figata, cioè tu ti riscarichi Pokémon, ti prendi Pokémon, easy, cioè tranquilli, perché ovviamente sei di livello basso, però che figata, clamoroso, veramente clamorosa una roba del genere, e poi non ha finito lui, perché già si è catturato tre Pokémon fantastici, perché sono l'evoluzione di tre starter e tutto il resto, Executor, di nuovo, no, non puoi metterle lì le coordinate, che cazzo stai facendo? Come le metti lì le coordinate? Perché le metti lì? Cioè lui così? Parte? No, move, no, ma che è sta storia? E poi ha sbagliato totalmente coordinate, no, guardate, cioè, cioè, assurdo, stava lì davvero, e poi però lui torna dentro, non so per quale motivo lo facciano da dentro le cose che cattura Pokémon, magari è un bug che possono sfruttare, ed è molto semplice così eludere la sorveglianza, però secondo me ti bannano, dai, non è possibile che tu riesca a fare sta roba, perché poi alla fine respawni da un'altra parte, eh, guarda, il delay massimo è fattibile, sapete? È decisamente fattibile. Boh, provarlo con i miei account, cioè, con il mio account mi dà abbastanza fastidio, perché se, a parte non voglio utilizzare trucchi, poi se mi bannano, bam, la botta clamorosa la prendo, e, non penso, snipe me, cioè, meraviglioso, c'è anche Kangaskhan, eccolo Snorlax, clamoroso, poi lui va a ridargli la roba, move, e via. Tanta, tanta, tanta roba, veramente particolare, mi piace un sacco sta, cioè, è interessante, è carino, un modo a cui magari io non avrei pensato per teletrasportarmi da una parte all'altra del mondo, anche se, ritornando al discorso, vabbè, sarà che, sarà, cioè, boh, possibile, possibile sì, possibile no, però, vedete, cioè, è tutto reale, vedete? E, ok, si sta potenziando Snorlax, perché, boh, non so per quale motivo. Ma non potenziare i Pokémon, cioè, sono inutili. Vabbè, ok, perché ti fa vedere che sono loro, cioè, tanto questo è un account di prova del cazzo, dice, ok, guardate che funziona realmente, cioè, non mi sto prendendo in giro questa roba, funziona a cazzo. Questo, non penso sia fake. In tutti i casi, come al solito, fatemi sapere che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, qual è la vostra idea, se ci siete riusciti, se avete già fatto una roba del genere, o se, magari, avete un'idea diversa dalla mia, se dici, guarda, frino, secondo me è una cazzata, è stra-fake e tutto il resto. In tutti i casi, penso che per questo video possa essere tutto, vi ringrazio tantissimo per la visione, vi ricordo di lasciare un bel mi piace, se il video vi è piaciuto di iscrivervi al canale che vi ho già fatto, di condividere il video su Facebook e farmi lasciare le persone. Mi raccomando, passate in tutti i link in descrizione, Facebook, Instagram e Telegram, e noi ci vediamo come al solito. A un prossimo video! Ciao a tutti ragazzi!